Diversamente dal decimo municipio, Pomezia potrà finalmente dire addio ai famosi cartelli indicanti limite a 30 km orari. Gli incassi delle multe del prossimo anno infatti saranno destinati alla manutenzione stradale, alla viabilità e alla sicurezza. Lo ha deciso l'Aggiunta 5 Stelle, prevedendo un'entrata di circa un milione di euro. Solo 500 però potranno essere spesi dall'ente e il resto andrà allo Stato. 125.000 euro saranno utilizzati per il potenziamento della segnaletica, 50.000 per l'abbattimento delle barriere architettoniche, 10.000 euro per organizzare una serie di corsi sull'educazione stradale nelle scuole, 240.000 andranno alla pulizia locale e infine 70.000 verranno destinati alla sistemazione del manto stradale. Intanto ad Ardia la situazione rimane piuttosto critica. Mentre le piogge continuano a danneggiare l'asfalto, il sindaco Mario Savarese annuncia solamente interventi tampone. Quest'anno, nonostante la dichiarazione di dissesto finanziario che ci vede obbligati a pesanti tagli alle spese, siamo riusciti a stento ad arginare l'emergenza legata alle voragini, ha spiegato Savarese. A giorni ripartiranno nuovi lavori con l'obiettivo di chiudere le buche che si sono aperte con il maltempo.